E allora grazie a Giorgio Cappello che come appunto abbiamo detto ha fatto anche l'amministratore delegato della SOACO che come voi sapete è una ormai figlia, forse direi un'escrescenza brutta dell'aeroporto di Catania. Guardate l'aeroporto di Catania festeggia 100 anni, 100 anni e in 100 anni non sono riusciti a fare una struttura davvero all'avanguardia, sono andati lì a mettere strade, sopra strade, il terminal A lo buttiamo a terra, quello B, poi si incendia un angoletto e blocchiamo la Sicilia, io credo che questi 100 anni non sono stati ben utilizzati da chi amministra in questo momento perché i problemi ci sono e poi dobbiamo dire che hanno un altro neo che è quello della gestione negativa, pessima, incongruente, costosissima dell'aeroporto di Comiso che si sono comprati come tutti sanno per non farlo crescere. Ah, voi non sapete quanto ci vuole a far crescere un aeroporto, mi pare come quelli delle fragole, non sapete quanto sono le fragole, non le possiamo fare la saga, va bene. Allora dico, l'aeroporto di Comiso lo avete comprato, lo avete strapagato, lo avete mantenuto, ma ora fateci qualche cosa, sì abbiamo qualche volo in più, ma poi alla fine è sempre un aeroporto che qua ci andate la sera è una desolazione, va bene, va bene. Allora, a proposito di sera, poi parleremo dell'incontro della Prefettura subito dopo, a proposito di sera, che cosa succede la sera nei centri storici delle città, soprattutto per esempio a Ragusa, Ragusa è una di quelle città dove la sera c'è poco movimento. E quindi la nascita del centro commerciale dei Tre Ponti, che è arrivato ora dopo anni di oblio, è andato molto più avanti quello di Ibra dove c'è stato anche molto aiuto da parte del Comune, però il Comune non rinnega gli aiuti a nessuno, a quanto pare. Quindi oggi c'è stata questa presentazione dell'ampia stagione estiva, attenzione, si parla di piccoli appuntamenti, il gruppo musicale locale, la cosa locale, qui non siamo chiaramente di fronte, non vogliamo stupire nessuno con gli effetti speciali, si tratta soltanto di piccole iniziative con investimenti particolarmente ridotti o almeno il minimo indispensabile per far stare la gente al centro di Ragusa, Fravia Roma, Piazza San Giovanni e compagnia bella, incontri culturali, anche se, ripeto, non sono di grandissimo spessore, ma servono a riempire certamente i pomeriggi e le sere dei ragusani. Ne abbiamo parlato con il Sindaco che ci spiega la voglia di dare una mano a questo centro commerciale naturale dei tre ponti. vediamo.